e salva tutti figlioli ben ritrovati su arc allora visto la misfatta dell'ultima volta con il nostro tacchino onestamente non mi sono ancora rassegnato anche perché ho fatto mente locale che qui abbiamo di nuovo i nostri bei gigantosauri infatti guardate un po' chi ho dietro i miei due bestioni e quindi andiamo a cercare vendetta ragazzi prendiamo i nostri bei gigantosauri andiamo a cercarci un bel tacchino che ho visto che ci sono anche da questa parte e li facciamo fuori almeno credo e spero che siano sufficienti adesso non vorrei che il tacchino mi faccia fuori anche i due gigantosauri ma non credo perché mi pare di aver letto qua e là che un gigantosauro dovrebbe essere in grado di far fuori il tacchino adesso non ho capito il tacchino che livello deve essere io li sto trovando tutti a 250 di livello e nel frattempo ecco quale nuove creature del del gioco e della pace 252 guardate quante sono ecco bravo magnetri tutti che io me le volevo tamare mannaccia a te nei prossimi episodi incomincieremo a tamarli è perché altrimenti ci dilunghiamo un pochettino troppo allora qui è pieno di dodo e se ci sono i dodo ci devono essere anche i tacchini gigantosaurini miei eccolì allora qua questo è un dodo sì eccolo qua ecco il nostro bel tacchino sarà anche lui livello 52 152 quello che mi sta già attaccato no cos'è va bene vai attacchiamolo via gigantosauri miei fatevi onore dove siete voi attaccate dov'è l'altro che fa perché non ci attacco ecco attaccaci così c'è qualcosa che non torna ma perché non mi difendono i miei gigantosauri scusate mi date una mano per favore questo albero ecco bravissimo questo albero non ci vedo una mazza allora facciamo fuori sto albero perché ha rotto già la minchia ok oh finalmente l'attacco vai fatemi passare però aiuto sono incastrato tanto per cambiare ok bravi fatemi il culo dov'è non lo vedo nemmeno più ma eccolo qua sotto oh finalmente sì sì me l'hanno fatto fuori e con quale facilità grandioso altro che i bazooka bravissimi vediamo un po se ci ha lasciato le loro le ossa di come si chiamano bene solamente due che miseria allora con cento di queste osse si può evocare il dodorex ma non credo che sia il caso ok bravi miei cuccioloni di tir e di gigantosauri vediamo se ce n'è ancora qualcuno negli intorni oggi al 2 dicembre ci sono ancora i tacchini non me lo spiego ma chi se ne frega meglio così almeno ho trovato vendetta dai eccolo un altro lo vedo lo vedo lo vedo venite piccolini da quanto che sto girando per trovarli allora qui ce n'è uno solo va bene dai i gigantosauri poverini stanno arrancando nell'acqua giustamente non sono acquatici allora vieni qua vai attaccatelo bravissimo io mi metto qui e mi godo la scena fate fuori tutti l'altro che fa l'altro si fa i cazzi suoi proprio tranquillo oh ecco anche l'altro si è messo in partita benissimo fatto fuori ok non riesce a mangiarlo fermati ok prendiamoci i nostri due assicini guarda l'uccido io te ecco qua e va bene dai ne abbiamo fatti fuori due non sono un granché ma perlomeno ci siamo presi la nostra vendetta dai non potevamo concludere così fottuti da un tacchino no non ci sto per questo mini video è tutto ci vediamo nei prossimi video dove finalmente andremo a tamare qualche nuova creatura inserita con la patch 252 ciao e grazie a tutti come on se il video ti è piaciuto e ti senti un po' più paciuto non lasciare il tuo compito incompiuto non fare il cornuto un like è doverosamente dovuto ciao 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 ciao